Ecco la mia impressione è che se tu sei sempre a caccia di uno stupido da sputtanare, l'unica cosa che dimostri è che proprio non sei un'intelligenza superiore nemmeno tu. Io tolgo attenzione a chi mi mette in difficoltà, invece attiro tutta la mia fanbase sullo stupido che dice una sciocchezza. Che questi qui sono ineluttabilmente stupidi? Cioè sono nati stupidi? Perché allora vorrebbe dire veramente prendersela con i più deboli? Oppure lui pensa che questa gente non sarebbe ineluttabilmente stupida, ma è stupida perché lo vuole? Eh ma perché in realtà dietro mentana che brasta la gente c'è un sacco di sporcizia, proprio a livello umano secondo me. Se volete insultarci pesantemente perché vi sentite offesi come deplorevoli o vi sentite offesi come semicolti, beh volentieri noi non ci offendiamo. No, no, io no, tu sì però va bene. Sì ma appunto non è che mi offendo, rispondo, oh sì a mia voglia. Ciao Ale. Ciao Andrea. Allora oggi vorrei discutere di mentana che brasta la gente e ti dico da dove sono partito e sono partito da un punto che abbiamo in comune. Si sono capitati, specialmente su Facebook, dei commenti diciamo interessanti, li chiamiamo interessanti, ci hanno dato degli stronzi anche su YouTube, così gentilmente, tanto per farci contenti. E onestamente una risposta diciamo sarcastica sarebbe stata anche facile, no? E tra l'altro anche utile perché magari fai partire un flame, una discussione, noi ne abbiamo anche bisogno di ste robe, non facciamo finta di no perché i social funzionano su ste robe qua purtroppo. E abbiamo evitato perché è una questione anche di rispetto di noi stessi tutto sommato. Ma però non è detto che continueremo con questa linea in futuro? E lì potremmo litigare molto, nel senso c'è commento e commento a cui si può rispondere. Sì sì però sappi che io non sono, sai benissimo che io non ho paura di dire a uno che è uno stronzo. No che è uno stronzo, ma guarda. Questo qui non c'è da più avere un caffè. Sì no no, però diciamo è evidente che di fronte a alcuni commenti assurdi di gente che non ha neanche capito bene precisamente dov'è, è inutile rispondere. E lì invece ho pensato che c'è Mentana che si è ricostruito diciamo una carriera nuova sul web diventando quello che blasta la gente. Non vale solo per Mentana ma ce ne sono altri, c'è per esempio anche il signor Distruggere che ha questa qualità, alcune pagine web che si basano proprio su quest'idea di sputtanare gli stupidi. Ecco la mia impressione è che se tu sei sempre a caccia di uno stupido da sputtanare, l'unica cosa che dimostri è che proprio non sei un'intelligenza superiore nemmeno tu. Nel caso specifico Mentana è il caso più sublime a mio parere perché arriva a fare delle cose che io credo che un bambino di sei anni si vergognerebbe a fare. Mi è capitato di leggere una risposta a un commento in cui le lettere in verticale della frase formavano coglione. Lo fa un bambino di sei anni, facciamo un bambino di dodici un po' stupido, Mentana ha più di sessant'anni abbondantemente. In più ho notato un'altra cosa, che prendono di mira i commenti veramente più stupidi, mentre i commenti intelligenti che potrebbero mettere in difficoltà il ragionamento espresso da Mentana vengono totalmente ignorati. Il che mi sembra proprio una tecnica, no? Io tolgo attenzione a chi mi mette in difficoltà, invece attiro tutta la mia fanbase sullo stupido che dice una sciocchezza. Altra cosa che secondo me è molto interessante di questo meccanismo è che poi non colpisce mai i colleghi o i potenti che dicono cose stupide. Perché se tu sei uno che blasta la stupidità dovresti farlo sempre, non dovresti fermarti di fronte a un tuo collega giornalista che dice una scemenza, ok? Mi sembrano un giochino per colpire il debole ed evitare invece il confronto con chi ti può mettere in difficoltà. Tu cosa ne pensi? Allora, la prima cosa che mi viene in mente è che ancora una volta bisognerebbe capire chi è che ha in mano però il parametro per poter giudicare che cosa è stupido e che cosa non lo è. Perché uno dei grossi problemi, non l'unico, di questo modo soperandi è che quello che è stupido per Mentana non è che sia stupido in sé o quantomeno non sempre. Alle volte sì. Ma è una cosa che non è coerente con una costruzione di pensiero totalmente unilaterale fatta da, non dico Mentana stesso, ma di quei gruppi di pressione, di quei gruppi di interesse, di quei gruppi di potere di cui Mentana è portavoce. Per cui in realtà non si sta neanche tanto comportando da uno intelligente che, non usiamo la parola blastare perché veramente mi sembra, per quanto io non sia nemico dei neologismi e degli anglismi, è veramente orribile questa parola. Fustiga, ti va bene. Non è che lo fustiga perché è stupido, ma perché si sta comportando da eretico, cioè non sta dicendo quelle cose che sono permesse dal politicamente corretto, cioè da quel modo, da quella sovrastruttura di pensiero che per alcune persone, tra cui evidentemente è anche Mentana, sono imprescindibili nella comunicazione pubblica di questi tempi. Questo è il mio primo punto, ecco, insomma, non so se tu hai qualcosa da aggiungere su questo. No, no, sono d'accordo. Ecco, io quindi introdurrei anche il secondo punto, che è un po' più complesso, al cui io onestamente non ho una risposta definitiva, però c'è un problema secondo me soggiacente qui non da poco, perché lasciando stare quello che ho detto prima, diciamo pure che Mentana abbia un quotiente intellettivo molto alto, facciamo questa ipotesi, e che un po' da bulletto se la prenda con coloro i quali hanno un quotiente intellettivo basso, ok? E diciamo pure che ci siano anche, questa è un'ipotesi per assurdo, dei parametri che possono davvero indicare con una certa sicurezza se una persona è intelligente, una persona è stupida senza dover andare a cercare chi è che l'ha deciso, no? No, diciamo che c'è un certo realismo, ecco, filosofico, nell'apprensione della stupidità e dell'intelligenza nel mondo reale. Ma allora però, Mentana, cosa pensa? Che questi qui sono ineluttabilmente stupidi? Cioè sono nati stupidi? Perché allora vorrebbe dire veramente prendersela con i più deboli? Oppure lui pensa che questa gente non sarebbe ineluttabilmente stupida, ma è stupida perché lo vuole, ma se volesse potrebbe essere intelligente, e quindi lui, questa persona, le fustiga per essere loro da sprone, in modo tale che questi possano iniziare a studiare, leggere, imparare le lingue, viaggiare, viaggiare magari in questo periodo no, è meglio di no, e quindi diventare finalmente intelligente come lui. Solo che anche qui c'è un problema, se questa fosse la convenzione di Mentana, tu però Mentana stai facendo un discorso e sei il portavoce di dei gruppi di pressione che non vogliono che la massa però possa fare tutto quello che ho detto prima. Cioè non è un po' paradossale tutto questo? Sì sì, è molto paradossale, ma io credo che lo faccia per una questione proprio di ego personale e anche di poco senso della vergogna perché poi delle figure barbine, specialmente quando parla di calcio, le ha fatte anche lui, no? Penso che si sia trovato un modo, come dire, molto facile di piacere alle persone perché, e questo vale anche per i risseguaci di Borioni, del signor Distruggere appunto, ma ce ne sono tanti altri in rete più o meno importanti, vivono rodendo nel vedere il loro rappresentante che affonda il nemico. E si crea questo connubio strano tra il fustigatore, blastatore e il pubblico che lo segue. Cioè io ho l'impressione che c'è gente che segue Mentana e gode nel vederlo sputtanare un povero Cristo perché così si sente più intelligente. E beh, però qui allora torniamo alla famosa pozza d'acqua e alle due tribù di scimmie di 2001 di Sennelo Spazio però. Cioè siamo a questo livello qui, non che io pensassi che sia diverso, io credo che la società sia esattamente quella cosa lì. Due tribù, due gruppi di hooligan, due clan diversi che si scontrano e che godono nell'infliggere perdite agli avversari. Che però è esattamente quello che Mentana rifiuta. A parole. A parole. A parole, ma anche a livello... Perché Mentana invece è convinto di essere un universal man, no? Un qualcuno che davvero può rappresentare una percezione dell'universo. Cioè di essere il dover essere dell'uomo. E quindi rifiuterebbe questa... Ma perché lui cura molto la sua immagine da questo punto di vista ed è molto furbo. Per me, esemplificativo di chi è Mentana è la storia, non so se l'hai mai sentita, quella di Jacopo Iacoboni. La conosci? No, ma dimmi pure. Guarda, ti faccio questa sintesi. Jacopo Iacoboni è un giornalista della stampa che era, ma è ancora immagino perché io non lo seguo, ossessionato, ma proprio a livello da malattia, del Movimento 5 Stelle. Sai proprio quell'odio, no? Quando uno si sveglia e pensa, devo parlare male, disti qua. Prima delle ultime elezioni, tre, quattro anni fa insomma, quando c'era stato questo boom, se ti ricordi il Movimento 5 Stelle anche sui social, lui li attaccava tutti i giorni, in tutte le maniere, e aveva tirato fuori la storia dei famosi bot russi, accusando il Movimento 5 Stelle di falsificare la percezione, la realtà di avere in giro un sacco di profili falsi che ripetavano. Lui, come prova di questa cosa, ma parliamo di articoli e articoli sui giornali, aveva trovato un utente che si chiamava Beatrice Di Maio, dicendo che era totalmente falso, un utente totalmente falso, e che era la prova dei magheggi, dei casaleggio. Passano uno o due giorni, viene fuori il buon Brunetta, l'attuale ministro, che ammette che in realtà Beatrice Di Maio non è che la moglie. E qua, da 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 da, Beatrice Di Maio è mia moglie, adesso il nome della moglie reale di Brunetta non lo so, però devo dire che quando ho sentito sta roba, gli è venuto l'enorme desiderio di passare una cena con loro due, perché doveva essere bellissimo, no? Lui che gli parlava di Berlusconi, di quanto era bello Berlusconi, lei di quanto era bello di Battista. Cioè, poesia. Quindi una sputtanata e clamorosa. E nonostante questo, non solo si è vergognata, è andato avanti, è stato sostenuto da tutto il mondo che odia il Movimento 5 Stelle, per cui qualunque stronzata tu possa dire va benissimo, qualunque fake news tu possa produrre va benissimo. Cosa è successo? C'è stata, dopo le elezioni, la vittoria, anche importante dimostrando che proprio questi voti non erano finti, in quel momento il paese stava lì, c'è stato un raduno, un incontro, fatto dai Casaleggio con la stampa, con il mondo dell'informazione. I Casaleggio, Iacoboni, non l'hanno invitato. E per me hanno fatto bene, a casa mia uno che mi insulta non lo invito, perché c'è la libertà di parole e di stampa, però non vedo perché devo invitarti nel mio teatro a parlare male di me. Invece Bentana è salito sul palco e ha fatto la sua blastata, in quel caso, contro questa decisione. Peccato che Iacoboni ha messo in alto precisamente uno di quei comportamenti che tu blasteresti se lo trovassi sotto un tuo commento. Se lo avesse trovato sotto un suo commento, lui l'avrebbe blastato un commento di quel tipo lì, dove ci si inventa un complotto. No? L'avrebbe blastato, gli avrebbe detto di tutti i colori. Però era un collega e anche lì l'ha messa via, dimostrando che lui è un uomo di parte, fazioso, che vuole fare e quello invece è super partes. Non è così. Credo che sia proprio però parte integrante di una certa parte politica, quella di rifiutarsi di guardarsi allo specchio e di vedersi come parte combattente, come parte militante e di vedersi come invece appunto super partes, ma in quell'ottica di uomo universale di cui parlavo prima. Solo che però, se mi permetti, siccome non si dica che noi sfuggiamo alle asperità del pensiero, volevo però esprimere con qualche parola quello che io penso su quel discorso è una natura contro cultura che è venuto fuori parlando appunto di ventana. Allora, e mi appoggio qui alle parole di Canfora quando parlava appunto di quella famosa percentuale del 15-20-25% di dissidenti. Allora, io la vedo così. È ovvio che c'è una natura umana molto forte, cioè che non puoi creare degli esseri umani in vitro. Non puoi, usando questa espressione in maniera assolutamente radicale, produrli industrialmente. Però è anche vero che determinate società producono determinati esseri umani. Ci sarà sempre quella percentuale che resiste, però ce ne saranno altri che in qualche modo rispecchieranno quello che hanno riconosciuto. Ed è questo che io imputo a gente come ventana. Cioè il fatto che non si rendono conto che stanno togliendo il tappeto da sotto i piedi di persone che invece potrebbero essere persone che poi non sarebbero fustigate da loro. Se l'impianto educativo fosse in piena funzione e ci fossero delle risorse continuamente pompate nell'impianto educativo stesso. Cosa che però, no? L'idea liberale è un po' diversa. Si vuole creare questi modelli a doppia o tripla velocità di stampo anglosassone, ma soprattutto statunitense, dove ci sono università per deplorevoli e università per semicolti. Mettiamola in questo modo. Ma guarda, tu sfondi proprio una porta aperta. C'è un libro di Fubini che io proprio non è che adori proprio come giornalista, però che si chiama La Camorrista e la Maestra o la Maestra e la Camorrista, non ricordo adesso, chiedo scusa, dove lui comunque ha fatto un lavoro, uno studio, passando attraverso varie scuole di varie zone d'Italia e vari tipi di scuole, alcuni di scuole professionali o licee importanti di Milano, per esempio, e tu vedi la differenza di aspettative del futuro di ragazzi di 13, 14, 15 anni. Questo è il sistema che è stato creato in questo paese ed è evidente che tutto quel mondo che sta dalla parte di Mentana, Mentana va a fare le vacanze con i della Valle e Moratti, non va a fare le vacanze con gli operai, è ben contento di questo. Poi ogni tanto magari fanno qualche donazione, ma di cosa stiamo parlando? C'è un mondo separato dove non esiste più l'ascensore sociale che parte dallo studio della cultura, è evidente, no? Da dove lo vuoi far partire, se no? Perché poi ti tirano fuori quelle frasi e vabbè, ma se tu non lavori per colpa di un migrante che non sa neanche parlare l'italiano, è grazie ciccio. Tu hai creato un sistema per cui un ragazzo di 13 anni che è figlio di operai sa già che comunque non farà mai l'avvocato, il notaio che non avrà certi lavori perché sa che non è possibile e quindi farà un percorso di studi di un certo tipo, poi le eccezioni ci sono e sia chiaro, ma di cosa stiamo parlando? È evidente, no? Basta guardare anche nel mondo dell'università i nomi sulle porte sono quelli del padre e del figlio, lo spirito santo ancora no, però, e quindi, no, no, è perfettamente ragione. Poi non si può neanche essere al 100% chiaramente compassionivoli, no, nei confronti, perché comunque, ripeto, c'è secondo me una certa percentuale che invece ci gode proprio nel dimostrarsi proprio peggiori, no? è possibile, certo, però è chiaro che bisogna fare qualcosa, cioè bisogna fare qualcosa e finché ci sarà gente qua in Mentana che non dico prendere decisioni, ma quantomeno le pubblicizza e le propaganda queste decisioni non potranno essere prese. E la cosa divertente è che doveva essere un podcast appunto divertente e invece abbiamo toccato dei punti non da poco mi sembra. Sì, ma soprattutto doveva essere divertente e invece è uscito molto dark, diciamo. Eh, ma perché in realtà dietro Mentana che bella sta la gente, c'è un sacco di sporcizia proprio a livello umano secondo me ed è venuta fuori. È inutile. Sì, poi ti ripeto questo non mi impedirà di fustigare qualche eccesso di stupidità che ci verrà rivolto contro di noi perché ogni tanto mi sembra che appunto questa stupidità ripeto sia un po' quasi ostentata e però insomma il problema c'è tutto. Beh, vediamo se questo podcast arriverà qualcuno a salutare Mentana perché cose già successe è incredibile. Eh, ci farà una maratona. Sì, dai. Beh, insomma, direi che abbiamo detto quello che dovevamo dire e magari abbiamo iniziato un discorso che potremmo approfondire più avanti. Sicuramente. Per me è tutto e saluto che ci hai ascoltato e ringrazio te. Anche io ti ringrazio ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato che ci hanno dato la loro attenzione. Se volete insultarci pesantemente perché vi sentite offesi come deplorevoli o vi sentite offesi come semicolti beh, volentieri. noi non ci offendiamo. No, no. Io, no. Tu sì, però va bene. Tu sì, ma non è che mi offendo. Rispondo. Oh, sia la mia voglia. Sì. Se quel giorno lì mi gira rispondo. Esatto. Non è che mi offendo. Ok. Grazie. Prendo alto. Sì. Del fatto che c'è una pozza d'acqua tra di noi e che bisogna prendersi un bastone o un ciottolo appuntito e utilizzarlo per difenderlo. Esatto. Ok. La natura umana chiama. Va bene. Ciao. Grazie, ciao. Grazie.